La relazione tesa del principe Harry con suo padre, il principe Carlo, si sta scongelando dopo che la coppia ha tenuto chiacchiere amichevoli, è stato affermato questa sera, si dice che il duca di Sussex abbia contattato il principe di Galles per cercare di ricucire le relazioni prima dell'attesissimo giubileo di platino della regina quest'estate. Una fonte ha detto al San Domenica. C'è stato un netto disgelo nei rapporti tra Harry e Charles, sono i rapporti molto migliori e hanno avuto chat amichevoli e videochiamate. È stato suggerito ad Harry che potrebbe vivere fino a rimpiangere qualsiasi amarezza familiare persistente, e lui l'ha preso in considerazione. C'è la sensazione che stia tornando più nell'ovile e voglia essere più vicino alla sua famiglia. Harry, 37 anni, potrebbe tornare nel Regno Unito dalla sua attuale casa in California per l'evento a giugno, che segna il settantesimo anno della regina sul trono, non è chiaro se sua moglie Meghan Markle, 40 anni, e i loro figli Archie, 2 e Lilibet di 7 mesi, lo accompagneranno in caso di ritorno. Non è inoltre chiaro se Harry tornerà per il memoriale del principe Filippo, previsto per marzo o aprile. La notizia è emersa in quanto è stato affermato che il duca è disperato. Di tornare nel Regno Unito. L'ex ufficiale della protezione reale Ken Worfe, che da bambini faceva la guardia alla defunta Diana, principessa di Galles e ai principi William e Harry, ha detto a Palace Confidential su MailPlus che il duca di Sussex farà un vero sforzo per tornare qui. Il redattore del diario del Daily Mail Richard Eden ha proseguito suggerendo che Harry è ancora desideroso che sua figlia di 7 mesi Lilibet riceva un battesimo reale. Un rappresentante legale del duca ha detto di voler portare i suoi figli in visita dagli Stati Uniti ma che, non possono tornare a casa sua, perché, troppo pericolosa. Ciò avviene nel mezzo della controversia legale di Harry con il governo del Regno Unito sulla decisione di non lasciargli pagare la protezione della polizia per la sua famiglia durante la sua visita. Grazie per la visione!